Dopo aver raggiunto importanti traguardi durante i suoi primi sette anni di vita, il GAL dell'alta marca trevigiana ha elaborato un nuovo programma per il futuro. Nato per raccogliere finanziamenti da destinare a progetti per la valorizzazione del territorio, il GAL ha raggiunto finora la soglia di 6 milioni e 200 mila euro di finanziamenti assegnati e ha appena terminato di predisporre il suo nuovo piano. Questo piano, che abbiamo chiamato AMALE, la sigla sta per alta marca, Landscape Emotion, cioè emozioni di paesaggio, perché il turista sempre più cerca esperienza, emozioni, per questo viene sul nostro territorio. Tre i progetti chiave individuati con lo scopo di un'integrazione sempre maggiore tra i vari territori. Vorrei citarne uno importante, che è quello di iniziativa GAL, che riguarda le piazzole per la ricarica delle bike che partono dal Cansiglio al Grappa. E questo è, come si è detto, veicolo lento per i turisti. È un'opportunità che vogliamo creare e questo è il primo progetto proprio GAL, cioè di iniziativa GAL. Oltre alla riqualificazione, di questo progetto fa parte anche la promozione di alcuni prodotti tipici del territorio. Il secondo progetto riguarda il paesaggio del Prosecco Superiore di Conigliano e Valdobbiadene, candidato a patrimonio UNESCO. Tra gli interventi previsti, la creazione di tre punti di accoglienza turistica a Cison di Valmarino, Pieve di Soligo e Valdobbiadene. Il terzo progetto chiave riguarda i parchi tematici, didattici dell'alta marca trevigiana.